Praticamente qua è otturato, perché da là, qua esce l'acqua, perché da là è otturato, è l'acqua del me indietro. Da circa 14 mesi siamo in questa situazione che c'è una puzza nauseabonda di fogna. Voi non riuscite nemmeno ad aprire le finestre? No, completamente. E infatti questo è il problema che ora è in estate, dobbiamo stare con le finestre chiuse e la mia paura è questa qua di morire al caldo della puzza. Io ho tanta immaginazione e voglio tanto usarlo, sono un pochino lento, perché sono molto precisino e metto tanto tempo. Il dito ha fatto un disegno nel piattino col ketchup che ancora ho conservato, quindi da là ho capito, è sempre stato così un artista. Questa è la situazione drastica in cui io sto vivendo da tre anni. Perché sono un prigioniero, non posso ne uscire, ne entrare, non vedo la luce del sole, non vedo la luce del sole, rispiro muffa. È diventato un momento anche di inclusione, attrazione soprattutto per i turisti, perché diciamo che fondamentalmente il progetto Zancla ha un obiettivo, quello di esaltare ancora di più la bellezza di questa città. Grazie per la visione! Grazie a tutti.